Le strategie per rafforzare il settore turistico nelle Marche dove presenze e arrivi superano i livelli pre-Covid, pesa però l'assenza dei visitatori russi. Lucio Cristino. È il marchigiano che deve essere il primo ambasciatore del proprio territorio e quindi cominciare a parlare bene delle nostre regioni, dei nostri provinci, dei nostri comuni e quindi essere i primi testimonial e quindi questo marchigiano che deve cominciare veramente a amare la propria regione e raccontarlo a tutti quanti. Ambasciatori dell'accoglienza. Nel dibattito sulla destagionalizzazione, ovvero allungare la stagione turistica da aprile a inizio novembre, è lo scatto di mentalità quello richiamato da Confindustria. Nelle strutture, alberghi stagionali aperti anche in primavera e in autunno, nella funzione del pubblico, ovvero un'offerta più sartoriale basata su spesa, gusti, abitudini dei turisti che visitano le Marche. I numeri sorridono alla regione. Nei primi otto mesi del 2022 presenze e arrivi in aumento anche rispetto al pre-Covid, ma è uno scenario diverso. La questione russa pesa sul turismo marchigiano? Pesa sì, pesa molto sia in termini economici, ma soprattutto pesa molto in termini prospettici, perché quello è un mercato su cui noi dobbiamo assolutamente puntare, che è un mercato che può dare delle grandi soddisfazioni. E torniamo sempre al punto in termini economici, perché i russi quando si muovono spendono, spendono e spesso si muovono in periodi di bassa stagione, quindi è un segmento che assolutamente non possiamo non puntare. Nel mondo che torna a viaggiare, i numeri per le Marche ci consegnano quelli di una regione con pochi stranieri, il 14% contro altre regioni che sfiorano il 50% e con strutture ancora piccole e frammentate. Tra le località Senigallia e San Benedetto occupano la parte del Leone. Necessario aprire l'offerta all'entroterra. Assolutamente, l'entroterra maceratese con tutta la zona del Parco Sibillini è una zona che a me è cara, perché è veramente un contenuto incredibile di tutto, che è il Monte Feltro.